Ciao Milly! C'è una stanchezza all'osso che non hai idea! Allora, stiamo aspettando il terzo turno di Ferdi Yoya Veramente che stanno ballando bene Ma anche altri copi italiani che ci sono passati fino adesso Tra poco ti dico che è passato il quarto turno Che significa il 48 Che dopo 330 copie è una cosa fantastica Ciao ciao, a dopo!